sono orgoglioso di essere loro figlio e sono fiducioso nell'operato dei giudici questo è quello che ha detto matteo renzi alla sala gialla stracolmo a lingotto per la presentazione del suo libro tantissima la gente in coda per farsi firmare il libro da matteo renzi e tanti anche i politici in prima fila martina giacchetti maria elena boschi il governatore sergio chiamparino il senatore mauro laus fregolent gariglio marino in tanti per ascoltare lo show di renzi dal palco attacca il movimento 5 stelle la lega parla della tav e soprattutto si sofferma a lanciare un appello al ministro bussetti che cacci l'insegnante di foligno che ha umiliato un bambino di colore sottolineando come fece il ministro fedeli quando presidente del consiglio all'epoca c'era proprio con lui e licenziarlo l'insegnante che a torino aveva messo all'indice le forze dell'ordine uno dei momenti clou è stato quando matteo ha chiamato l'avvocato pellegrini sul palco per firmare la prima querela indirizzata a marco travaglio